Quattro ragazzini tra i 13 e i 17 anni sono stati perquisiti stamani dalla squadra mobile della polizia nell'ambito delle indagini sull'incendio doloso di vampato sabato pomeriggio nel centro di Firenze in piazza d'Avanzati distruggendo una decina di motorini tra i perquisiti i 13enne e i 17enne che erano stati già denunciati nei giorni scorsi e altri due minorenni. Questi ultimi non sarebbero indagati, la loro posizione è al momento al vaglio dell'autorità giudiziaria. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati i cellulari dei ragazzini, saranno esaminati alla ricerca di elementi utili per ricostruire la dinamica dell'accaduto, anche video eventualmente condivisi. I quattro giovani sarebbero stati tutti presenti nella piazza quando è divampato il rogo. Ieri gli agenti della squadra volante hanno identificato otto ragazzini di età tra i 14 e i 16 anni che si aggiravano intorno alle carcasse dei motorini bruciati dopo aver superato il nastro di sicurezza posto a delimitazione dell'area interessata dall'incendio. Gli adolescenti, che dalle indagini sarebbero risultati tutti estranei alla vicenda del rogo, sul momento vennero portati in questura per l'identificazione e poi riaffidati alle loro famiglie.